buongiorno a tutti ben arrivati ben ritrovati a questo non appuntamento dei danzare con la tempesta il danzatore di oggi è il nostro daniel tarozzi giornalista documentarista e fondatore di italia che cambia che è il partner di questo evento uno dei partner di questo evento daniel ha fondato appunto italia che cambia che è un progetto giornalistico che dal 2012 intende raccontare mappare e mettere in rete chi di fronte ai problemi si attiva concretamente per cambiare le cose una una fonte una risorsa eccellente utile alla base del suo lavoro la ricerca di un altro immaginario che ci guida nella percezione della realtà mostrandoci che è possibile realizzare i propri sogni cambiare se stessi il mondo è anche autore di diversi libri tra cui io faccio così è una moneta chiamata fiducia entrambi editi da chiare lettere edizioni ed è anche coautore invece di e ora si cambia insieme ad andrea degli innocenti pubblicato da terra 9 edizioni in collaborazione con ariana editrice e ovviamente italia che cambia ci tengo tanto a dire che ho voluto che Daniel facesse parte di questa di questa serie di interventi perché come dicevo poco fa siamo bombardati da una serie di informazione che mass media portano e che semina molta paura c'è quasi un c'è un turismo informatico quello a cui siamo sottoposti e dal momento che l'informazione informa la nostra psiche ho voluto che Daniel dal momento che lavora in questo ambito da molti anni portasse il suo contributo e quindi sono lieto che sia qui tra noi oggi e come tutti gli altri incontri di danzare con la tempesta benedico questo spazio affinché sia di beneficio a tutti gli esseri del cosmo alla terra e per tutte le nostre relazioni grazie Daniel e buon lavoro ma intanto ciao a tutte e tutti benvenuti grazie davvero Alberto il tema di cui parleremo oggi appunto l'informazione ma anche come anticipato la paura quindi la disinformazione è una cosa che voglio dire da subito che discorsi che andiamo a fare non sono legati quantomeno non esclusivamente a questo periodo e a questo momento ma sono discorsi che varrebbero allo stesso identico modo anche sarebbero valsi tre mesi fa e varranno fra tre mesi quindi anche per non diciamo banalizzare un momento storico che oggettivamente è specifico e ha le sue complessità ma che secondo me invece non ha fatto altro che parlando di media diciamo aumentare in qualche modo esasperare delle problematiche che caratterizzano il nostro immaginario ormai da anni e anni io ho 42 anni e da che io abbia ricordi e purtroppo ce li ho purtroppo mitico dei media ce li ho fin da bambino nel senso che sono cresciuto come tanti guardando la tv e quindi i discorsi che andiamo a fare insomma hanno una lunga storia e cosa faccio nella vita io faccio il giornalista no anzitutto faccio e non sono perché non sono il mio mestiere lo pratico pratico con amore con passione ma non mi identifico con un lavoro e da questo punto di vista aggancio anche proprio l'uso delle parole perché proprio in questi giorni stavo rispolverando un libro di massimo angelini l'ecologia della parola che è un bellissimo libro che ci invita a porre attenzione all'utilizzo dei termini che che facciamo ogni giorno perché tu alberto mi sei maestro in questo le parole hanno energia e quindi anche la scelta di quelle che andiamo a utilizzare a un'immediata conseguenza perché ho detto che mi occupo di immaginario perché io in realtà non lo sapevo cioè non ero partito con l'idea di occuparmi di immaginario io ero partito con l'idea di occuparmi di ambiente ecologia sostenibilità nel 2003 ormai quindi tanti tanti anni fa e questo ho fatto e continuo a fare oggi la sostenibilità ambientale sociale ecologica e umana e negli anni l'ho fatto quasi sempre sul web perché perché a 24 25 anni ho avuto diciamo una breve ma veloce carriera in televisione ero trasferito a milano da roma e per un breve periodo ho lavorato in tv e ne ho visto da vicino i meccanismi rendendomi conto di quanto la televisione falsificasse in reale già lo sappiamo tutti noi perché insomma molti di noi sono critici guardano proprio la televisione eccetera ma finché non sei all'interno del meccanismo non ti rendi conto di quanto anche quando vuoi fare qualcosa di positivo sei inevitabilmente portato a falsificare e di come anche una fotografia che sembri oggettiva sia in realtà un punto di vista ma faccio sempre l'esempio se tu fai una foto per esempio a una stanza potrebbe avere un angolo ordinato e uno disordinato se scegli di ordinare di fotografare quello ordinato stai nascondendo il disordine o viceversa eppure quella foto in sé è reale non puoi dire è una falsificazione ma la scelta di che foto fare influenza inevitabilmente la percezione che io avrò di quella stanza se io ogni giorno faccio vedere quell'angolo quello ordinato tutti penseranno guarda che stanza ordinata in questo momento voi forse intravedrete una libreria mediamente ordinata dietro di me ma se guardasse quella mia destra ci sarebbe il delirio perché in questo momento non ho fatto eppure questo fa sì che ci costruiamo un'immagine giorno dopo giorno e l'immagine che noi ci costruiamo della realtà è qualcosa che poi guida le nostre azioni quindi non è qualcosa di secondario qualcosa di filosofico di bello da discutere ma che non ha un impatto cioè mi spiego meglio cioè se io ho una percezione di impotenza non non agirò non agirò per cambiare la mia vita non agirò per realizzare i miei sogni non agirò per 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 cambiare il mondo appunto per costruire un altro tipo di economia per costruire un altro tipo di sistema della salute eccetera eccetera e non solo se l'immagine che io ho della realtà fin da ragazzino è sempre negativa mediocrità squallore decadenza questa cosa in qualche modo entrerà dentro di me cioè io mi convincerò di vivere in un mondo squallido mediocre decadente sarò portato a non sognare sarò portato a non neanche immaginare di poter realizzare i propri sogni e soprattutto vivrò in un estremo senso di solitudine quello che ho imparato in questi anni poi magari raccontiamo un attimo perché ho fatto questa esperienza però quello che ho imparato in questi anni di giro posso anticipare che sono atto anni che giro incessantemente l'italia da nord a sud da est a ovest e quello che ho imparato è che tutti pensano di essere tra tutte le persone che stanno facendo le cose migliori che le vorrebbero fare sono convinti di essere quelli strani si sentono isolati si sentono soli e sono convinti che gli altri i misteriosi altri la gente no alberto la gente la gente sia tutta mediocre e squallida e perché hanno questa convinzione perché fin da bambino tv vedi questo no accendi la televisione ma poi vale anche per il web questo ovviamente che dice ma io non guardo la tv sì ma se leggi i quotidiani cartacei o usi facebook in modo diciamo superficiale o instagram l'immagine la stessa cosa succede immaginiamo un attimo la televisione guardo un telegiornale e leggo e sento di morti di guerre di corruzione di mediocrità cambio canale metto un talk show e vedo dei caffoni che dovrebbero essere dei politici che gridano parlandosi sopra l'uno con l'altro spesso abbrutiti incattiviti dei giornalisti o pseudotali altrettanto incattiviti così via allora cambio ancora canale e guardo reality show e vedo in reality show dei giovani più o meno sono mediocri che parlano di tatuaggi calcio e sesso sostanzialmente senza nessun tipo di spessore nella maggior parte dei casi quindi spengo la tv dico mamma mia che tristezza io non sono quella roba lì io sono quello strano io sono quello isolato quando tiro fuori una mia idea probabilmente i miei amici mi dicono ecco un'altra delle sue è arrivato quello che c'ha sempre delle strane e quindi ogni giorno di più mi convinco di essere quello diverso e di essere solo la realtà è quella cosa che vedo in tv per questo l'ho chiamato matrix dentro di noi questo incontro non mi chiesto un titolo perché mi sono convinto che in realtà no la realtà non è quella che noi pensiamo ma noi ci autoconvinciamo ci siamo autocostruiti questa percezione che abbiamo preso dai media ed è diventata la realtà cioè Alberto sento delle strane voci sì sì non so se è la matrix che dicevo venendo in media io mi convinco che la realtà sia quello squallore quella mediocrità lì e di conseguenza mi sento quello strano questo mi porta a non agire mi porta se anche lo faccio a farlo con un'enorme frustrazione un enorme senso di solitudine la realtà è che non è così questa è la grande scoperta che ho fatto in questi anni la realtà è che quello che vediamo in televisione è frutto di una ricerca faticosissima di mediocrità devi veramente essere uno stereotipo per fare carriera dentro quella scatola ma se tu vai a vedere il paese io l'ho fatto dal 2012 sono partito il 9 settembre 2012 con un vecchio camper con quest'idea di girare per l'italia e dopo otto anni non mi sono ancora fermato e dopo otto anni che giro l'italia posso dirvi con certezza assoluta che la realtà è immensamente migliore di quello che pensiamo cioè in questi anni ho visto centinaia e centinaia di progetti di cambiamento positivo funzionare a livello imprenditoriale associativo nelle periferie nelle campagne nell'agricoltura un'italia straordinaria che funziona che rompe gli stereotipi che fa vedere come la cooperazione vince sulla competizione che fa vedere come si possano appunto creare progetti nelle periferie come quelli di scampia o di palermo che si possano combattere le mafie con successo che si possa cambiare l'immaginario veramente da tutti i punti di vista eppure queste storie straordinarie non vengono rappresentate non vengono raccontate e quindi continuiamo a non saperle e questo è il motivo per cui su italia cambia.org ogni giorno diamo spazio a queste storie a questi assaggi ormai lo possiamo testimoniare con certezza assoluta la realtà immensamente migliore di quella che pensiamo ma dobbiamo farla emergere ecco ci sei ancora io sì ci sono ci sono abbraccio vuoi vuoi dirmi tu vado da solo vai abbraccio caro vado avanti ok no non volevo abbattimi se vedi che allora faccio un passo indietro vi spiego che cos'è italia che cambia perché si lega tutto questo discorso il 9 settembre 2012 decido di partire con questo vecchio camper un camper targato catania io nato a torino cresciuto a roma mezzo siciliano mezzo ligure ho detto devo fare il giro d'italia devo andare a vedere se questo paese è davvero solo squallore mediocrità perché ho deciso di fare questo viaggio perché tutti quelli che conoscevo mi dicevano beh in italia non possiamo fare le cose noi italiani non sappiamo collaborare noi italiani ecco il solito italiano se c'è uno che butta la cartaccia oppure un treno arriva in ritardo e beh certo siamo in italia cioè usiamo usiamo il termine italia il termine italiano come qualcosa sempre di negativo di squallido però la cosa che mi colpiva già all'epoca era che tutti quelli che dicevano questa cosa non si ricomprendevano non so se ci abbiamo fatto caso cioè noi diciamo gli italiani sono tutti ladri beh il solito italiano ma io no giusto cioè quando io dico gli italiani penso gli altri e però io tutti quelli che conoscevo mi dicevano gli italiani fanno schifo e io no e allora ho cominciato a pensare ma se questi italiani che non fanno schifo fossero tanti cioè vuoi vedere che non siamo così pochi e isolati ma che davvero questo racconto pervasivo dei media mi ha convinto che la realtà sia quella cosa lì almeno una volta nella vita voglio andare a vedere se c'è un'altra italia non italia che cambia e quindi sono partito con questo viaggio in camper con l'idea di andare a incontrare persone che si assumono la responsabilità della propria vita senza aspettare qualcun altro quindi persone che di fronte a un problema non si chiedono se ma come come posso fare a cambiare le cose se ci pensi questa domanda ribalta completamente il problema se mi chiedo se posso realizzare un cambiamento accetto anche un no come risposta cioè posso combattere le mafie posso costruire un mondo sostenibile posso creare un altro tipo di scuola come tu ben sai se mi chiedo se probabilmente mi dirò no no figurati se posso fare una scuola a biella che porti avanti un altro tipo di educazione così via se mi chiedo come tanto lo penso ancora però se mi chiedo come magari mi metto lì nella mia casa e comincio a fare queste esperienze poi la faccio crescere poi incontrerò delle difficoltà delle battute dal resto ripartirò ma se mi chiedo come inevitabilmente la mia energia andrà in questa direzione e quindi ho detto beh andiamo a vedere se ci sono persone che si sono attivate in quest'ottica pensando di stare in giro due o tre mesi perché in italia non c'è niente siamo tutti ladri squali di corrotti e da settembre 2012 sono partito con sto camp davvero non sono famoso oggi e non lo vedo di certo allora eppure il mio problema è sempre stato scegliere tra tutti i progetti che mi segnalavano in tutte e venti le regioni italiane piemonte sicilia sardegna giulio di venezia giulia marche abruzzo no ovunque andavo mi segnalavano decine e decine di progetti di cambiamento già in atto non di idee non vorrei tanto fare questa cosa faccio cose vedo gente se potessi no sto realizzando questo progetto ed erano tutti progetti meravigliosi e quindi questo viaggio doveva durare pochi mesi è durato quasi un anno ho scritto questo libro io faccio così che raccontava questo viaggio io faccio così la risposta che mi davano quelli che incontravo che era nonostante la mafia non c'ho i soldi la burocrazia mia mamma non mi capisce io faccio così noi facciamo così ma avevo la frustrazione delle centinaia di storie che non c'erano state che non avevo ancora potuto vedere e quindi italia che cambia.org che è il mio blog personale è diventato una testata giornalistica e da oggi siamo in undici che tutti i giorni raccontiamo queste straordinarie esperienze abbiamo pubblicato centinaia di video storie le trovate in home page nella sezione storie cctv abbiamo pubblicato una mappa con oltre 3000 progetti abbiamo pubblicato migliaia di articoli eppure ancora oggi dopo otto anni io ancora non ho neanche sfiorato la quantità incredibile di progetti che ci sono in giro cioè se adesso qui raccogliessimo le segnalazioni di progetti interessanti la maggior parte di quelli che mi segnalerebbero io non li conoscerei questo perché perché siamo circondati 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 solo che la gente non va in giro con una maglietta con scritto io sto realizzando un progetto meraviglioso e quindi io non lo so io mi guardo intorno facciamo finta di poter uscire per strada come da una volta esco per strada mi guardo intorno e vedo persone penso a beh quelle persone sono tutte abbrutite squallide mediocre in realtà molte di loro stanno cambiando il mondo lo stanno facendo ogni giorno e si sentono sole perché non sanno che tu sei come lei come lui cioè non sanno che oppure che tu vorresti esserlo perché anche questo non sanno che tu non ti riconosci nel sistema consumista non sanno che per te l'unica cosa importante nella vita non sono i soldi non sanno che tu non ti riconosci in un mestiere che tu aneli ad altro che vorresti l'armonia che vorresti connetterti di più con il pianeta con l'ambiente che vorresti un altro tipo di mondo non lo sanno perché pensano di essere loro quelli appunto isolati e questo è la grande falsificazione dei media che ogni giorno gonfiano alla paura i numeri sui morti che in questi giorni ci danno sono totalmente decontestualizzati 100 morti 83 morti 500 morti 800 morti e uno ogni giorno a qualunque ora del giorno accendi la tv senti parlare di morti e pensi che sta finendo il mondo è ovvio che purtroppo è un dramma quello che stiamo vivendo perché tante persone stanno morendo e questo nessuno lo nega ma il modo in cui lo raccontano la paura dell'altro il portarti a temere no prima soprattutto era questa cosa con i cinesi c'è la gente che aveva cominciato ad avere episodi razzissi verso i cinesi che erano diventati giuntori poi bergamaschi milanesi no per una volta arrivava dal nord e non dal sud però ci pensate ma questo ci porta a temere l'altro questi affacciati alle finestre che denunciano se c'è uno che corre sotto casa no il tremendo corridore che sta devastando l'italia eppure lo sappiamo che ogni anno muoiono un milione e mezzo di persone per il diabete per gli zuccheri che ci mangiamo non sappiamo che di incidenti muoiono decine di persone ogni giorno quando ci sono le macchine in giro non lo sappiamo perché non ci dicono ogni giorno 25 morti 30 morti 40 morti 12 morti e questo non vuol dire che queste morti non siano drammatiche ma il punto è dove metto l'attenzione io in questo momento potrei raccontare ovviamente devo per forza raccontare l'evoluzione di questo virus ma potrei raccontare a fianco con grande forza che tipo di soluzioni si possono adottare che tipo di potremmo mettere in discussione determinate frasi chiederci davvero se ha senso la mascherina in campagna a cinque metri da qualcuno cioè non creare questa questo monopensiero non so se ci fai caso ma non si fanno mai domande nei media no cioè il racconto ciao marcello il racconto è sempre schematico totalitario in qualche modo quindi c'è un problema c'è un unica soluzione e chiunque osi farsi domande farsi domande diventa un criminale no se tu osi domandarti se davvero ha senso produrre milioni di mascherine usa e getta anche per chi va al parco e sta a 10 metri da chiunque il parco ovviamente deve essere chiuso mentre le fabbriche devono essere aperte e chi vende sigarette deve essere aperto mentre la libreria deve essere chiusa perché ci sono delle priorità ben precise se ci pensi nella vita quindi sigarette sì libri no ad esempio ma se non ci facciamo mai domande diventiamo in qualche modo rotelle di questo sistema e tu mi insegni ne avete parlato anche in questi giorni che cosa genera nella salute nel corpo umano questo continuo seminare paura questo significa che non bisogna dire che c'è coronavirus ribadisco assolutamente no non è questo il senso il senso d'italia che cambia non è mai quello di negare ciò che non funziona assolutamente di negare i problemi però possiamo contestualizzarli possiamo dire che se noi non cambiamo determinati sistemi a livello economico e ambientale ci estinguiamo non parliamo di 100 morti 200 morti parliamo dell'estinzione umana eppure per l'estinzione umana e di altre migliaia di progetti non ci fermiamo l'economia non si ferma per l'inquinamento no ecco è arrivata greta la ragazzina sciocca no è arrivato il storico ambientalista ci sono i bambini africani che muoiono di fame tu mi parli dei delfini c'è nessuno che si che riesce a comprendere che tutto connesso noi per l'ambiente non ci siamo mai fermati c'è sempre detto beh ma certo ma non possiamo mica fermare l'economia e quindi alla taranto la gente muore a brescia la gente muore per l'inquinamento migliaia migliaia di morti ogni anno ma va tutto bene perché quelli arrivano per l'ambiente oppure vendiamo sigarette e creano ogni anno non so quanti tumori ma lì lo stato ci mette sulle tasse noi le compriamo le fumiamo senza grossi problemi e perché mi sono chiesto perché improvvisamente questo coronavirus invece ha portato lo stato di tutto il mondo che non è che dice l'italia a agire in un modo diverso probabilmente perché questo è un rischio che noi percepiamo come reale e qui torniamo al tema dell'immaginario cioè problemi ambientali che poi rischiano ripeto di portarci all'estinzione sono percepiti come qualcosa di lontano che in realtà non ci riguarda perché boh forse fra 20 anni ma alla fine chi se ne frega morirà mio figlio cioè se ci pensate che diciamo di fare tutto per i nostri figli qualcosa che magari è fra 20 30 anni 50 anni non ci tocca beh io però devo usare l'acqua in bottiglia perché c'è troppo calcare nella certo un filtro non lo potrò mai mettere devo comprare l'acqua in bottiglia e se no c'è il cloro quindi le buste di plastica le mascherine usa e getta i bicchieri usa di plastica un nostro stile di vita basato sul consumo senza problemi però di fronte al coronavirus ci terrorizziamo tutti e ribadisco sai perché ci terrorizziamo tutti perché ce lo potremmo prendere noi adesso oppure nostra mamma nostra nonna e così via e questo giustamente ci spaventa e allora torniamo al tipo di informazione che andrebbe costruita un'informazione che racconti con la stessa forza e anche più con cui si sta parlando di coronavirus i rischi dovuti alle tematiche dell'inquinamento eccetera che mostri le follie dell'economia per cui per esempio quando si dice che l'ilva di taranto da 10.000 posti di lavoro non si dice quanti posti di lavoro si perdono a causa dell'ilva ci si racconta di questo falso dibattito tra lavoro e ambiente ma che affianca tutta questa denuncia di problemi ci racconti come già oggi esistono le soluzioni a tutto ciò ci racconti come esistono tantissimi progetti che creano economia e che mettono al centro l'ambiente quindi che possono costruire un altro tipo di sistema ci racconti quanti posti di lavoro si possono creare a taranto con le bonifiche ci racconti quanti posti di lavoro si possono creare facendo efficienza energetica in tutta italia e quindi abbattendo le emissioni della CO2 del 60% ci racconti quanto tempo libero potremmo avere se tutti lavorassimo davvero meno ore cosa che sarebbe assolutamente fattibile retribuendo le persone perché sappiamo che il sistema la meccanizzazione fa sì che servano sempre meno persone e quindi teoricamente noi oggi dovremmo lavorare meno tutti ma se lavoriamo meno tutti non diventiamo elementi produttivi per la società se il fine è la produzione abbiamo costruito un mondo in cui il fine è la produzione non è il senso non esistere non è la vita tanto che le persone si trovano sul tempo libero e sono disperate e guardano telefilm come se non ci fossero domani perché che cosa ne fai di tutto questo tempo libero cioè rischi di doverti interrogare sul perché vivi rischi di farti qualche domanda sul senso sul senso delle cose invece dobbiamo riempirci le giornate dalla mattina alla sera in modo da non fermarci mai e non rischiare appunto di ricordarci che siamo vivi e quindi da qui viene fondamentale un altro tipo di informazione che denunci quelle poche cose che vanno davvero denunciate e non sono l'angoscia che ci fanno la cronaca nera tutte queste cose qua che non hanno nessun senso ma che denunci davvero diciamo quelle tre o quattro problematiche dell'umanità e soprattutto che ci proponga costantemente le soluzioni le meravigliose storie che ci circondano che ci dimostrano che esiste un'altra umanità che non è vero che quando c'è uno che per esempio violenta una persona per strada tutti sono indifferenti è pieno di migliaia di storie in cui la gente interviene a difesa dell'immigrato a difesa della persona che sta subendo violenza è pieno di storie di solidarietà stupende anche in questi giorni ovunque è pieno di persone che mettono al primo posto le relazioni umane non siamo tutti egoisti non siamo tutti abbruditi è un falso storico incredibile incredibile si cerca morbosamente il caso come si trova il caso di uno egoista subito se ne fa una notizia ma avete visto a milano c'è stato questo episodio di cronaca e nessuno è intervenuto si giudica si giudica il tema del giudizio è un fascino il fascino della della distruzione il fascino della catastrofe psicologico anche no che porta forse a la ricerca no di questo informazione anche perché non lo fai perché alberto anche perché funzionale cioè se tu vai a cercarti giornali degli anni 50 negli stati uniti e in italia giornali di architettura gli architetti discutevano di questo grande problema discutevano pubblicamente sui giornali c'era un dramma negli anni 50 ed era che dopo la guerra l'essere umano in occidente per la prima volta aveva soddisfatto i propri bisogni primari cioè non era mai successo che in così grande scala l'essere umano avesse cibo acqua accesso all'istruzione riscaldamento vestiti ok quindi cosa vuol dire vuol dire che tu puoi vivere dignitosamente compreso ripeto l'istruzione e rischiti di non aver bisogno di comprare no eppure l'economia è basata sulla crescita del pilo ovvero degli acquisti di conseguenza cosa scrivevano in questi in questi giornali architetti dobbiamo inventarci dei bisogni secondari dobbiamo fare in modo che le persone siano insoddisfatte perché se una persona è soddisfatta non compra se non compra l'economia dicevano loro non va avanti di conseguenza hanno fatto degli studi di decenni per farci per isolarci per farci sentire soli ma ripeto per farci sentire inadeguati per cui tutta la mercificazione del corpo femminile non è stata costruita come si può pensare in modo superficiale perché così il maschio eccitato guarda la bella ragazza in tv tutto il corpo femminile esibito in tv serve per costruire nelle donne un immaginario impossibile da raggiungere se una ragazza fin da piccola si vede questi corpi perfetti cosa farà tutta la vita si farà la plastica comprerà milioni di creme si sentirà sempre che non va bene far andrà in palestra farà questo farà quello e questo fa crescere gloriosamente il pil se io mi sento solo se io mi sento isolato devo compensare devo comprare prodotti mangiare devo mangiare schifezze devo guardare telefilm devo spendere soldi devo fare cose che mi spingano anche a consumare in questo modo i mitici architetti pubblicitari degli anni 50 hanno risolto il nostro problema cioè ci hanno reso bisognosi di qualunque cosa quando le torri gemelle cadono george bush come prima cosa dice andate a comprare non smettete di consumare tanto che noi stessi ci identifichiamo come consumatori e torniamo all'immaginario i consumatori sono individui che consumano il mondo e noi accettiamo questa definizione noi facciamo associazioni dei consumatori per difendere i diritti dei consumatori dei consumatori cioè come possiamo come è possibile come abbiamo fatto ad accettare la definizione di consumatori io non sono un consumatore consumatore sarai tu è una parolaccia io sono un essere umano un essere umano lo so petrini dice definiamoci come coproduttori che decidiamo cosa coprodurre quando compriamo qualcosa ma io dico ancora di più definiamoci come esseri umani che possono scegliere di produrre determinati prodotti possono scegliere di autoprodurli possono scegliere di non averne bisogno possono scegliere che le cose che gli servono sono immensamente meno di quante pensiamo riappropriamoci del diritto di esistere al di là degli oggetti al di là dei consumi perché è incredibile quanto questo non sia non sia quasi più accettabile perché poi sai in questi contesti è facile fare questi discorsi perché probabilmente molti di quelli che ci seguono la pensano anche già così ma se tu vai nelle scuole io sono stato lo scorso anno in diverse scuole della periferia di milano un progetto si chiama facci caso dove andavamo dai ragazzi a portarli a fare caso da un lato facci caso era stai attento alla presenza della mafia al nord ed era il pezzo che facevano gli altri partner io portavo invece il facci caso alle belle realtà che ti circondano quindi andavamo in questi istituti e quello che mi ha colpito è la desolazione di questi ragazzi e ragazze cioè questi ragazzi che sognano tutti di diventare ricchi che hanno inglobato questi miti totalmente vuoti ma io non me la prendo per niente con loro io li amo loro il punto è dove siamo stati noi mentre li abbiamo educati noi non solo chi ha figli noi società nell'educare questi giovani questi ragazzi a sognare esclusivamente il denaro quando io gli chiedevo ma che che loro mi dicevano io facevo l'esempio di messi e ronaldo cioè ma secondo voi perché fanno a gara messi e ronaldo per guadagnare 50 milioni 60 milioni 100 milioni cioè rendete conto che non cambia niente dopo certe cifre mi ricordo che due o tre di loro proprio dicono no ma cambia perché ti puoi comprare una macchina in più dicono ma che cosa stai dicendo cioè dopo il secondo milione ti sei comprato tutto quello che ti serve invece gli abbiamo ficcato nel cervello delle cose senza senso ci sono intere vite a volte mi guardo intorno in alcuni casi vedo intere vite a inseguire il non senso e questo è una responsabilità enorme che chi di noi ha diciamo invece la capacità di senso critico si porta addosso l'orella zanardo ci invita che invito tutti a seguire ha scritto ha fatto un bellissimo documentario si chiama il corpo delle donne ma insomma ora sta facendo un bellissimo lavoro sul volto il volto manifesto lei mi diceva sempre non guardare la televisione non è un gesto elitario nel senso io persona mediamente colta eccetera posso scegliere di non seguire determinati stereotipi così via ma mi devo anche assumere la responsabilità del fatto che ci sono milioni di persone che crescono in quel modo con pochi strumenti culturali e con quel tipo di immaginario che gli entra nel cervello quindi noi dobbiamo lottare ogni giorno per diffondere un altro tipo di visione dobbiamo farlo condividendo su internet le storie positive ma raccontandole diventando noi stessi cantori di queste storie no dandogli visibilità uscendo dallo stereotipo uscendo dai dualismi soprattutto dalla lamentela ogni volta qualcuno di noi dice non si può fare niente è complice di un omicidio sta uccidendo il sogno di un ragazzo quando noi cresciamo questi ragazzi con questo senso di sconforto siamo complici profondamente e anche se non abbiamo figli perché se andiamo in giro a trasmettere questa negatività no sempre a prescindere eh signora mia no eh signora mia si va si tira avanti ma pensa uno che entra in un negozio e sente sta frase come va eh ma perché è che ti è successo no cioè adesso vabbè dice eh perché c'ho il coronavirus ok tre mesi fa quattro mesi fa eh ma come è che cosa vuol dire come va bene no andrà bene cioè che cosa hai fatto già ho mangiato sono stato con i miei cari ho lavorato micchia che figo no perché non abbiamo mai la capacità di apprezzare quello che abbiamo di apprezzare la possibilità di realizzare i propri sogni ti fa schifo la tua vita cavolo la puoi cambiare non ti piace il tuo lavoro puoi licenziarti non hai il lavoro te ne puoi inventare uno questi ragazzi anche che hanno questa idea che qualcuno gli deve dare il lavoro ma chi è che glielo dà chi è che ti dà il lavoro questo gli altri no questa idea se penso che i miei nonni no i miei zii sono stati partigiani gente che ha perso la vita per i nostri diritti noi invece ci siamo a sue fatti a quest'idea mi devono dare mi devono dare il lavoro ma non si capisce mai chi cioè la responsabilità non è mai nostra spesso abbiamo quest'idea che qualcun altro debba risolvere i problemi che sia un politico che sia un papa che sia un calciatore un musicista cerchiamo questo eroe questo leader questo santone da seguire che mi illuminerà e mi condurrà verso una vita diversa tutto pur di non dovermi assumere la responsabilità della mia vita e questo invece è quello che noi possiamo fare noi possiamo avere un'enorme responsabilità in senso positivo l'Italia che cambia in questi anni lo ha dimostrato non solo con le centinaia di storie che ha raccontato ma anche con le azioni pratiche uno dei luoghi comuni incredibili sull'Italia è che noi italiani non sappiamo collaborare non sappiamo metterci in rete non sappiamo fare le cose insieme era una frase che sentivo sempre che mi faceva venire l'orticaria ma non avevo la prova che non era reale poi ho incontrato Melania Bigi e Ilaria Magagna che avevano all'epoca comunitazione oggi hanno messo su una bellissima realtà che si chiama Tara facilitazione e loro mi hanno insegnato cos'era la facilitazione che sono delle tecniche molto semplici che ti aiutano a lavorare in gruppo a progettare insieme e così via ho studiato queste tecniche ci siamo formati insieme ai colleghi e le colleghe di Italia che cambia e abbiamo detto sai che facciamo chiamiamo 100 100 in realtà erano 104 105 attori del cambiamento associazioni imprese da quelle classiche non so greenpeace uvf addio pizzo banca etica i comuni virtuosi e transition town la decrescita felice slow food li chiamiamo tutte anche manager imprenditori li mettiamo intorno a 17 tavoli tematici e gli chiediamo di dirci come può essere l'Italia nel 2040 nel migliore dei mondi possibili non utopici possibili e sono uscite dei sogni bellissimi allora a livello agricolo a livello scolastico a livello economico l'Italia potrebbe essere così benissimo come ci arriviamo quali sono le azioni che io oggi posso fare io nel 2015 16 nel 2020 come cittadino ognuno di noi ha un cittadino cittadina è un professionista un imprenditore ed è un politico nel senso che ognuno di noi fa anche politica ogni scelta che facciamo è politica perfetto sono uscite oltre 500 azioni 500 azioni concrete che noi possiamo fare dal basso ma non solo sono uscite queste azioni queste azioni sono uscite da queste 100 persone che hanno collaborato tutte gratis tra loro dimostrando come se ti imponi nel modo giusto non è vero che in Italia non sappiamo collaborare quindi 100 realtà ripeto che non so c'era lo stesso tavolo c'era Slow Food e Gionino Clandestino che normalmente sembrano avere approcci molto diversi oppure appunto c'erano veramente persone che venivano da estrazioni culturali completamente opposte eppure prese nel modo giusto hanno collaborato e ci dimostrano come oggi noi noi che siamo qui collegati adesso possiamo cambiare tantissime cose non dobbiamo aspettare il governo non dobbiamo aspettare le multinazionali non dobbiamo aspettare i famosi misteriosi padroni del mondo gli alieni o i poteri occulti o chissà chi sono cose che possiamo fare adesso e che abbiamo racchiuso in questo libro e ora si cambia sono azioni semplici possiamo cambiare gestore elettrico da casa senza neanche dover uscire e quando accendiamo la luce non stiamo finanziando una guerra perché noi non ci rendiamo conto ma facciamo tanto gli ambientalisti mettiamo la bandiera della pace ma poi la nostra energia elettrica, la nostra automobile si muove col petrolio che arriva dall'Iraq e dall'Afghanistan eccetera vuoi che quando accendi la luce quando per la tua abitazione non sia basato sulla morte sul sangue? Cambia gestore se puoi sei a casa tua, ti fai l'efficienza energetica ti fai fotovoltaico e così via ma intanto puoi cambiare gestore elettrico puoi passare per esempio a De Nostra che è un gestore che fa 100% rinnovabili vuoi che i tuoi soldi in banca non siano usati per finanziare una guerra? toglile le banche armate e mettile in una banca come banca etica vuoi che il tuo sito internet non sia appoggiato su un server che inquina? toglilo da un classico server inquinante e mettilo per esempio ad Exe che è una realtà romagnola che fa sì che il tuo sito non inquini quando lo usi vuoi ridurre i consumi di acqua? metti dei filtrini che costano 10 centesimi nei tuoi rubinetti e abbatti del 40-50% il consumo d'acqua? e così via centinaia di azioni che possiamo fare adesso tutti mi dicono bravo quando lo racconti ma poi mi chiedo quanti hanno a casa e davvero si mettono a fare queste azioni perché poi torniamo a casa e sì bella questa cosa però ho cose più importanti da fare poi insomma i politici allora in Italia la politica non funziona e ci lamentiamo e no allora io posso dirvi concretamente che se tutti noi realizzassimo quelle 500 azioni che sono uscite da lì l'Italia nel 2040 perché non lo dico io dice Dagnia se l'ha inventato lo dicono 100 tra le realtà più preparate su queste tematiche se noi avessimo deciso di metterci insieme di realizzare tutte queste azioni avremmo abbattuto enormemente le emissioni di inquinamento avremmo una salute migliore un'alimentazione migliore avremmo una scuola che funziona e tantissime una finanza che funziona e così via ma questa cosa ci darebbe un enorme potere potere che noi abbiamo delegato nel momento in cui abbiamo lasciato la nostra educazione a i media e la nostra libertà a una croce da mettere ogni 5 anni su un foglio e quindi torniamo ad assumerci la nostra responsabilità con gli onori ma anche con gli oneri che ci comportano perché la responsabilità è faticosa responsabilità vuol dire interrogarsi vuol dire a volte svegliarsi la notte chiedendosi che cosa si può fare qual è il mio potere qual è la mia possibilità per cambiare qualcosa e non è neanche così banale perché non è solo il mio azione perché a volte il rischio qual è di questo tipo di ragionamento che ci porti a un rinchiudere cioè ok se io faccio le mie azioni e boom ho finito invece no anche qui le azioni che sono uscite da questi tavoli non sono solo quelle che vi ho detto cambiate il filtro non usare l'useggia etta cambia efficienza ma sono anche fai divulgazione incontra altre persone spingi altre a farlo perché chiaramente se agiamo solo come singoli di nuovo non funziona un altro dei falsi dualismi che arrivano dal novecento è l'opposizione tra l'io e il noi non so e quindi una volta si diceva la destra e la sinistra la destra individualista la sinistra diciamo comunista in realtà quello che ho visto in questi viaggi in Italia che cambia è che è una falsa contrapposizione cioè non c'è o l'individuo o c'è la comunità c'è l'individuo che fonda la comunità io credo che bisogna partire dalla responsabilità personale dalla responsabilità individuale per poi immediatamente dopo connettersi con gli altri e qui si torna a un'informazione corretta dove posso leggere? hanno giusto fatto stanno chiedendo dove si possono leggere allora dove posso leggere tutte queste opzioni per poterle attuare su Italia che cambia ci saranno dei link allora apro il video solo temporaneamente perché ho giusto preso dalla mia libreria questo che è il libro che ha pubblicato Daniel insieme a al nostro Andrea degli Innocenti dove contiene appunto queste 500 azioni che possiamo possiamo applicare nella nostra vita quotidiana o anche in un po' di tempo ma che ci possono aiutare a creare un cambiamento e ovviamente su italiachecambia.org sì su italiachecambia.org nella sezione visioni 2040 trovate gran parte di queste azioni e sempre su italiachecambia.org trovate centinaia di video storie di cambiamento quindi esempi che diceva beh quel matto di Danio ci ha detto che la gente fa le cose ma io mica ci credo ma lì ci sono le testimonianze le potete vedere potete anche andare a trovare c'è anche la mappa che vi dice dove abitano quindi potete andare a incontrarli e appena finisce la quarantena io un invito che vi faccio davvero è avete un sogno un desiderio di cambiamento personale o collettivo non sapete come fare andate a incontrare chi lo ha fatto no? perché vedere che altri lo hanno fatto è una forza enorme un bellissimo slogan dei comuni virtuosi che è una delle realtà che incontriamo è vietato non copiare non abbiamo questo pudore quasi nel dire ma io no ma invece no cavolo copiamo copiamo come matti cioè se qualcuno ha già realizzato un progetto posso andare a farlo insieme a lui posso ripeterlo renderlo replicabile uno degli obiettivi nostri è rendere replicabile questa straordinaria esperienza di cambiamento che ci sono in atto se davvero oltre alle azioni di cui parlavamo adesso tutti sapessero quante storie meravigliose di cambiamento sono in atto nel nostro paese secondo me saremo immensamente spinti a realizzarne altre cioè veramente noi abbiamo visto circuiti di moneta complementare abbiamo visto scuole outdoor education scuole all'aperto stupende abbiamo visto aziende giovani che tornano a popolare borghi abbandonati progetti agricoli stupendi natura e cultura che si incontrano comunità di tutti i tipi manager imprese ripeto non solo progetti alternativi un po' freak eccetera ma anche imprenditori io ho incontrato e non me l'aspettavo essendo cresciuto in una periferia romana centinaia di imprenditori straordinari che hanno una voglia matta di cambiare la propria azienda e il proprio impatto sul pianeta ma veramente anche rimettendo soldi eccetera imprenditori in grado di fare scelte pazzesche di rinunciare delle commesse perché hanno scoperto che erano nel mercato delle armi pur rischiando di perdere enormi guadagni coinvolgendo i propri dipendenti imprenditori che stanno ragionando di di cedere la proprietà della propria azienda ai propri dipendenti perché non gli piace le diarie essere proprietari imprenditori che fanno che entrano nel circuito dell'economia per il bene comune che è un bellissimo strumento che ti fa sì che fai una sorta di bilancio diciamo della tua azienda non solo a livello ecologico ma anche a livello sociale a livello finanziario e ti aiuta a fare un percorso per migliorarla o le Bicorp le società Benefit per non parlare di tutto il mondo associativo ovviamente di tutto il mondo dei volontari di tutto il mondo della spiritualità è veramente un'immensità io spesso faccio l'esempio di quando uno si compra un'auto di una certa marca e di un colore magari raro diciamo mi compro una Pluto gialla perché ce l'ho solo io da un giorno dopo che l'ho comprata in giro vedo solo questo tipo di macchina cavolo l'avevo comprata ce l'avevo solo io adesso ovunque vado c'è quella macchina lì è un effetto psicologico che fa sì che quando conosco un qualcosa lo ritrovo in giro ecco quello che avviene quando si comincia ad entrare in questi mondi è che si scopre che siamo circondati cioè a un certo punto intorno vedi solo Pluto gialla cioè vedi solo persone che stanno cambiando vita a un certo punto ti stupisci quando vedi che c'è ancora gente che compra l'acqua c'è ancora gente che fa la spesa ad un certo tipo che non si interroga sui propri consumi che non si interroga sui propri relazioni che pensa che i soldi superato ovviamente la soglia di povertà che è fondamentale siano davvero importanti tu dici c'è Davis Buonanni in una bellissima intervista che riportiamo su Italia che cambia che dice a volte passo davanti al centro commerciale vedo la gente in file e faccio ma veramente ancora e si stupisce Luca dice funzionasse così per la coscienza sai anche lì il tema della coscienza è molto legato a tutti questi discorsi è un punto di partenza scusami Alberto è un punto di partenza l'informazione che dia risorse psicologiche anche per creare un cambiamento di coscienza ma tra l'altro anche su questo sarebbe bello fare un raduno cioè trovare in modo però dovremmo arrivare davvero a tutti una chiamata troviamoci in tot data tutte le persone consapevoli perché poi vanno a sapere cioè siamo così sicuri che là fuori siano tutti come dicevo all'inizio mediocri squallidi inconsapevoli cioè questo è un altro racconto dei media state davvero attenti questa percezione che noi abbiamo di un'umanità decadente è costruita scientificamente questo non vuol dire che non ci sia gente mediocre perché c'è anche se poi anche lì in un'ottica non giudicante non è gente mediocre ma sono persone che hanno necessità e bisogni però adesso rimanendo in un'ottica senza fare analisi troppo complesse è pieno intorno a noi di persone consapevoli come la puto gialla solo che non è che c'hanno scritto in faccia o nella maglietta il problema è incontrarle cioè io per esempio so che tantissime persone che fanno percorsi spirituali si vergognano a dirlo non è qualcosa che uno dice lo dicono magari i fanatici in qualche modo i fanatici di varie religioni o anche i fanatici della new age ma è che uno va in giro normalmente dicendo perché io sto facendo un percorso spirituale però se fate caso in una tavolata a un certo punto c'è una normalmente dico una perché in genere sono più le donne a tirare fuori questi argomenti una persona che tira fuori questo argomento e timidamente comincia a scoprire che intorno a te l'80% delle persone legge libri di un certo tipo io collaboro oggi sono qui anche come collaboratore di Amrita Edizioni che è una casa editrice che anche promuove questi incontri che pubblica tutta una serie di libri tra cui quelli di Alberto sui temi della consapevolezza e incontrate per esempio tra i lettori Amrita le persone più insospettabili non è che vediamo solo persone un po' strane ma la signora del piano di sopra e il ragazzo del piano di sotto insomma quindi chissà quanta gente sarebbe consapevole sarebbe cosciente ma non lo sappiamo o non lo sa neanche lui o lei perché un'altra cosa che ho visto in questi anni è che c'è una fame enorme di consapevolezza di coscienza di sostenibilità di armonia di connessione con la natura che è un tema fondamentale che anche gli psicologi stanno finalmente portando avanti di riconnessione perché poi noi siamo emanazione della natura non è che ne siamo solo che ci siamo staccati è pieno di questa esigenza ma chi ha questa esigenza spesso non sa dove andare cioè le persone non sa dicono boh io sento che c'è qualcosa che non va no? torniamo a Matrix Matrix è dentro di noi io sai quando dice pillola verde pillola blu e gli dice senti mai che c'è qualcosa che non ti soddisfa nella tua vita questo nel film Matrix ecco c'è un sacco di persone che sentono che c'è qualcosa che non va che non torna nella propria quotidianità fatta di automatismi e schiavitù mentale nel essere in un aereo che atterra e scattare tutti insieme in piedi per prendere velocissimamente la valigia e rimanere 8-12 minuti fermi come dei cretini con la valigia in mano in attesa che l'aereo si apra e nessuno sa perché bisogna stare lì perché se no l'aereo esplorerà fra 3 minuti facciamo tutta una serie di azioni senza rendercene conto però c'è una parte di noi che non è il puro automatismo c'è una parte di noi che anela a qualcos'altro solo che non viene mai stimolata questa parte non viene stimolata perché appunto non lo fa la scuola non lo fanno i media e purtroppo noi ci connettiamo col mondo attraverso la scuola e attraverso i media perché poi il resto sono i circuiti che non abbiamo scelto cioè noi non ci rendiamo conto di quanto non scegliamo le persone che frequentiamo una persona normale tra virgolette che cosa fa? va a scuola e non sceglie i compagni di scuola gli capitano perché vive in quella zona poi o fa l'università o va a lavoro e frequenterà i colleghi di lavoro se per caso ha scelto un lavoro che non ama incontrerà persone che non gli interessano più di tanto che non hanno grandi passioni che a lui o a lei interessano più di tanto e quindi si convincerà ogni giorno che la normalità sia quella cosa lì e sempre meno sarà stimolato a cercare pensieri diversi e nessuno spingerà questa persona a ragionare in un modo diverso e quindi il suo universo la sua realtà sarà quella cosa lì ma è stata mossa dalle circostanze cioè magari sarebbe bastato come nel film Sliding Doors che avesse perso una metropolitana un giorno che non avesse preso quel posto di lavoro che non avesse preso quella scuola se fossero andati in un'altra e poteva essere tutto un altro percorso però a un certo punto uno da adulto può anche dire basta io scelgo mia madre quando da bambino mi spiegava queste cose mi diceva possiamo uscire dal disegno ecco esco dal disegno esco da qualcosa di prestabilito e mi guardo intorno e cerco le persone perché ci sono è molto facile stare lì e dire non c'è nessuno sono tutti stupidi sono tutti immediati ma te li sei andati a cercare ma perché io l'ho trovati quindi le ho viste ci sono e probabilmente tutti quelli che sono qui oggi molti di loro di voi di noi direi siamo persone mediamente consapevoli vogliose di di pensare di ragionare di sviluppare una coscienza una spiritualità una consapevolezza che poi sono sfumature della stessa cosa secondo me quindi davvero attiviamoci anche in questo assumiamoci la responsabilità cioè smettiamo di dire la gente è mediocre non c'è nessuno andiamoci lì a cercare e se davvero davvero su un determinato concetto ci rendiamo conto che le persone non sanno delle cose proviamo a farle a divulgarle noi ma anche qui con umiltà perché uno dei grandi temi del cambiamento è cioè spesso alcuni mi vengono da me e mi dicono ma io vado alle persone a dirgli che stanno sbagliando tutto ma non mi ascoltano cioè se io vado a casa tua e ti dico allora tu sei un po' una cacchina perché sbagli tutto mangi male produci rifiuti sei una cattiva persona stai inquinando stai uccidendo gli animali stai costruendo questo dice aspetta un attimo scusa quella è la porta e si mette a guardare la D'Urso su Canale 5 non so neanche su Canale 5 se invece io magari con umiltà dico sai io ho scoperto questa cosa fino a ieri non mi ero mai reso conto che dietro a questo stile di vita si nascondeva questa cosa qui non sai che angoscia ho provato quando mi sono reso conto che tu ci avevi mai pensato prima mi puoi suggerire come fare cioè se tu ti poni con umiltà ma non finta cioè umiltà vera nell'ascolto probabilmente questa persona avrà anche voglia poi di prendere un consiglio da te quindi non non ci convinciamo di essere migliori di essere buoni come ha fatto tanto a sinistra nel novecento che c'era questa idea del mi sacrifico per il mondo il concetto di sacrificio è un altro concetto meraviglioso quelli che dicono ho fatto tutti i miei sacrifici per i miei figli e il figlio dice ma chi te l'ha mai chiesto no? ma che concetto orribile è l'idea che tu per qualcuno che ami vabbè la parola sacrificio se vorremmo andare all'etimologia ma non lo facciamo hai fatto qualcosa di negativo no io scelgo io scelgo di non so portare giù il cane mi assumo responsabilità del cane è un impegno ma non è un sacrificio mi dà gioia perché il cane mi riempie di felicità io scelgo di non inquinare non lo faccio certo perché sono buono e generoso lo faccio perché sono egoista io come egoista non voglio che contribuire a distruggere il pianeta non sono generoso sto meglio io lo faccio per me noi dobbiamo smetterla di giudicare di sentirci migliori e di pensare che siamo tanto generosi quando facciamo le cose perché questo pianeta tra qualche miliardo di anni il sole esploderà e qualunque cosa ne facciamo qua morirà tutto tutto e quindi sarà pure tutto inquinato distruggere nulla ha senso no? il tempo non esiste quindi se il tempo non esiste ma che cos'è che esiste davvero? non ci sono miliardi di pianeti uno potrebbe diventare anche come che si dice quando non credi in niente lì non mi viene il termine comunque più che cinico insomma dice vabbè tanto nulla ha senso se la vogliamo vedere in un'ottica razionale nulla ha senso il pianeta è destinato a esplodere quindi che tu l'hai salvato non l'hai salvato l'hai protetto non l'hai protetto ti sei estinto se c'è una guerra nucleare nel giro di qualche milione di anni Gaia la vita la ripopola quindi il punto è che io non sto bene inquinando e distruggendo non sto bene se il mio benessere è basato michelista grazie Ronaldo non sto bene se il mio benessere è basato sulla sofferenza degli altri quindi in senso sano io egoisticamente scelgo di costruire uno stile di vita più bello di lavorare appunto nella gioia nella luce nell'amore sono parole abusate chiedo scusa però per capirci nei sorrisi nella nella felicità nella in un qualcosa che renda il pianeta migliore ripeto perché mi fa piacere perché alla terra alla fine non gliene fregherà niente cioè quindi veramente se ci libriamo da questo peso mostruoso perché hanno fatto degli studi cioè la paura tornando al tema della giornata di oggi la paura non muove il cambiamento la paura muove l'irrazionalità quindi chi oggi non sta inquinando perché è chiuso in casa terrorizzato dal coronavirus non è che domani quando passa il coronavirus avrà imparato qualcosa tornerà a inquinare più di prima dice non lo devo recuperare devo andare in macchina più spesso la paura non è un motore di cambiamento reale invece la felicità lo è la gioia la soddisfazione il piacere quindi agiamo per cambiare il mondo perché ci fa stare meglio ricopriamo un sano egoismo della della bellezza ecco questo secondo me non mi hai abbattuto ma è passato un'ora quindi direi che è facile direi che sei stato un fiume in piena di informazioni di ricchezza ti ringrazio per questo intervento perché è stato altamente è stato ricco è stato utile anche per farci capire che possiamo creare un cambiamento con un'informazione diversa ma anche dal mio punto di vista ispirare raccontando la nostra storia o lasciandoci ispirare dalla storia degli altri allora rimostro di nuovo il tuo libro già che ce l'ho qui grazie e ora si cambia e invito tutti quanti a mettere un like ovviamente su Italia che cambia non per fare per fare una manbassa di follower che non è quello di cui ci interessa onestamente anche con questa rassegna di conferenze ma per appunto dare ispirazione creare un circolo di cambiamento che possa essere utile creare sostenibilità amore non in senso abusato ma che porti una riconnessione tra le persone un senso di comunità di appartenenza alla terra grazie Daniel grazie a te e a tutti voi a presto allora a presto buon cambiamento a tutti ciao ciao buona giornata